Siamo nove giorni della challenge di routine di massimo potenziale in cui mi rimetto in sesto con abitudini che mi portano al mio massimo potenziale Skincare, acqua, oil pooling, yoga, meditazione e una colazione sempre più sana Come sto iniziando praticamente la giornata, poi dopo qualche video in una giornata di pioggia me ne vado in palestra Oggi ho la parte alta del corpo, sto migliorando, andare in palestra in realtà mi sta piacendo Dopo essermi mantenuto a casa per un bel po' tornare in palestra è piacevole E in più mi dà anche modo di ascoltare dei podcast mentre mi alleno e vedere un po' di gente nuova Questa è la mia situazione attuale, piano piano sto iniziando a perdere peso grazie alla massa muscolare che prendo E poi ho pesce e riso È stato difficilissimo trovare la motivazione ma anche oggi sono riuscito a fare due minuti doccia fredda Poi tutta la beauty care routine messa a posto e ho fatto tutti i video per youtube e tiktok Tenendo anche i video che avevo nelle bozze Poi skin care, un po' di oil pooling e finisco con una lettura